Ehi amicare, hai visto che roba? Che roba? È appena l'alba e Geraldo è già ubriaco come una cucuzza. Già, dovremmo dare una mano a quel poveretto. Sì, sì, no, andiamo. Oh, non tutti insieme, mi raccomando. Allora, Geraldo, che ti è successo? Una lesca di pesce? Per mille malene! Devo trovare mio figlio Nemo. Nemo? Ehi, 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 è quel pesce! Quello di cui abbiamo parlato, quello che ha attraversato l'oceano. Ehi, io so dove è tuo figlio. Ehi, aspettate, tornate qui! Fermi! Dori, non fermarti, è un pazzo! Devo dirti una cosa importante! Mio? Ok, non fate movimenti inconsulti o bruschi. Saltate nel mio becco, se volete restare vivi. Saltarti nel becco, eh? E questo come mi aiuterà a restare vivo? Mio? Perché ti posso portare da tuo figlio. Sì, certo. No, io lo conosco. È arancione e ha una pinna atrofica. È Nemo! È mio, 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 mio! Allaccia! Allacciate le cinture! È mio, 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 mio! È mio, 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 mio! È mio, 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 mio! Sì!